Sappiamo bene come in recenti decenni si è insinuata l'idea che la liturgia deve essere popolare, adatta al popolo e che quindi, quanto in essa viene impiegato, a cominciare dalla musica e dal linguaggio liturgico, deve essere di livello basso, in modo che il popolo, la cosiddetta gente semplice, può comprendere facilmente. Ora, questo è certamente offensivo, non solo verso la liturgia, ma verso il popolo stesso, ritenuto incapace di apprezzare la vera bellezza. Questa mentalità falsamente paternalistica ha prodotto disastri estetici che sono ancora ben vivi ed operanti nelle nostre liturgie. Questo però è un vero abuso e va contro la tradizione e la prassi. Sappiamo bene che storicamente, quando il popolo veniva coinvolto nelle cose del culto, cercava di fare il meglio e di fare onore alla dignità delle cose sacre. Prendete la chiesa romana di Santa Maria dell'Orto, costruita in epoca rinascimentale dalle corporazioni di arti e mestieri, come quelle degli ortolani, dei fruttaroli, dei cienzali e via dicendo. Era probabilmente gente molto umile, gente semplice, gente del popolo, ma volle costruire un gioiello architettonico che ancora oggi è fonte di ammirazione per chi si trova a visitare questa chiesa, forse un poco nascosta ai visitatori, ma che rimane profondamente impressa una volta trovata. Credere che al popolo bisogna dare le musichette, le cose dozzinali è veramente offensivo ed è anche contro lo spirito vero della liturgia, che non è per l'intrattenimento delle persone, ma per la gloria di Dio in primis ed attraverso di questo per l'edificazione dei fedeli. Questa dinamica è sempre stata chiara nella nostra tradizione ed esce molto chiaramente dai documenti magisteriali, ma il ribaltamento di cui mi parlava Monsignor Antonio Livi, cioè sostituire il dogma alla pastorale, ha portato ad un rimescolamento dalle conseguenze nefaste. La pastorale discende dal dogma attraverso la teologia, non il contrario. Oggi anche nel campo artistico assistiamo ad un completo stravolgimento che non offende soltanto Dio e i suoi diritti ad un culto a lui adeguato, ma anche il popolo stesso, che attenderebbe di essere elevato anche attraverso lo splendore dei linguaggi artistici e non ammanzito con dei sottoprodotti estetici che non lo aiutano certo ad elevarsi e tantomeno a pregare.